Un incendio è divampato nella tarda serata di giovedì all'interno del centro benessere Monticello Spa & Fit di Monticello Brianza, frequentato da VIP e calciatori. Il rogo è scoppiato durante l'orario di chiusura, nessun ferito ancora in corso alla conta dei danni. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 23.40 con diversi mezzi e le fiamme sono state domate dopo tre ore. In una nota la società spiega l'accaduto. I sensori del centro benessere hanno rilevato un'anomalia termica facendo scattare l'allarme antincendio e l'avviso alla vigilanza notturna. Prontamente intervenuti, i pompieri hanno riscontrato un incendio nella sala dell'energia all'interno dell'area calore e tepore, concludendo l'intervento intorno alle 2.30. Le fiamme hanno interessato anche una stanza relax di Mitrofa e il fumo generato ha invaso alcuni locali tecnici rimanendo tuttavia circoscritto all'area in questione. Al momento, conclude la società, si stanno valutando i danni e i tempi per riportare il centro alla completa funzionalità e fruibilità. Contiamo di farlo nel più breve tempo possibile apportando anche alcune migliorie all'intera area.